La pratica di questa ricerca visiva è una pratica di trance, cioè di ripetere lo stesso movimento del lupo per molto tempo. Cosa resta in un corpo che è appena stato attraversato da un'energia molto forte? Lo che abbiamo cercato di mettere in pratica è stato coniugare immagini delle fiamme che si propagano in uno spazio. Cosa vuol dire che un movimento finisce? Come si percepisce la fine nei corpi? E abbiamo trovato questo stato di pulsazione costante e continua. Grazie per la visione!